Sì, cazzo di sì. Come va? Bene. Irish o mean? No, Irish. Ho voglio una birra. Ok. Figa sta cosa, questo effetto. Ah, la fontana? Sì. Ma vi dico cos'è questa? Questa è la mia pistola, è staccabile. Facciela vedere come si allunga la tua pistola, senza doppi sensi. No, aspetta. Vai, vai. Eh no, però vedi che si apre. No, si apre. Ah, ok, non si allunga. Che scarso. Buona mamma. Sai che vi sto drogando con una becca? Non mi dico. Si scivola qua lì. Sei pronto a ordinare? No. Aspetta perché voglio farmi una maschera. Bella. Bella. C'hai baffica. Non hai il pazzo del tuo qua. E non ce l'ho il pazzo del tuo. Devi arrangiarsi. C'hai l'ombrello se vuoi. L'ombrello. Quattro. 15 centenzi. Adesso proveremo a mischiare la fanta con la birra. La Guinness. La Kilkenny. No, non è la Guinness, ma la Kilkenny. Mamma mia. Che bontà. Fa schifo. Di cosa sa? Di cosa sa? Adesso scoprile. Sa di schifo. Non è anche male, sai. Buona? Già l'odore. Non so quanto è il posto, adesso è il posto. Siamo. Non è così. Non è così. Allora, vedo. Anche stasera c'è un casino di gente tedese. Anche stasera c'è un casino. Figa. Ma siamo solo noia. Siamo due solitari come le gocce che cadono. Albert, guarda il presepe. Che figo. Il presepe sulla barca. Vediamo. Dentro con la roba lì, dentro con la cesta ci abita mio nonno. Cosa è che sei mosso lì? Ah, due papi. Ah, due papi. Quac, 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 quac. Ecco, lì, vedi quel tavolino lì? Dove il pranzo è dissolto io. Lì? Llevo le due bambole lì e metto giù il tavolo da pranzo, cugini, amici, eccetera. Ci stanno tutti. Albert, c'è Elvira qua. Qua c'è la mia famosa amica alla portiera del palazzo Elvira. Il palazzo di Milano. Elvira! Lei è rimombato bene. Secondo me ti ha sentito? Eh, no, non esce. È coperto dai rifiuti. Perché ti rifiuti in continuazione? È coperto dai rifiuti perché ti rifiuti di uscire. È fantastico. Questa era degna di un grande rapper, cazzo. Eh, beh, sì. Albert, siamo arrivati alla fine della serata. Eh, sì, adesso... Oggi penso che ho avuto, come ti dicevo, due iscritti nuovi. Ah, sì. Che non so, non ho più parli di chi siano, ma comunque grazie per esservi iscritti. Però ho avuto anche una disiscrizione, non so se questa è la giusta, ma una disiscrizione stasera di un amico. Devo alzare la mano. Perché ci siamo trovati... abbiamo incontrati lì al bar dai miei amici. Zanni, tu sai chi sei. Giusti e crescio. E Zanni che hai iscritto, siccome mi ha visto me e te, sei ingelosito. Sei ingelosito. Il mio amore Gallo ha deciso di uscire... Mi ha tradito. Mi ha tradito, ha deciso di uscire con questo amico e non mi ha detto nulla. E quindi se li sei iscritto, vediamo se c'è anche la prova. Ecco, questa è la foto di me. Ho scritto il bastardo. Esce con gli amichetti e non lo dice. Poi mi ha fatto vedere che avevo 58 iscritti e adesso ne ho 57. Comunque ne ho guadagnato uno in più oggi dai. Ho perso un amico, ma ne ho guadagnati altri due. Due amici virtuali. Mi dispiace. Condognazze. Grazie bro. Non lo sapevo. Condognazze. E quindi niente, se tu vorrai essere mio amico ancora, non mi rimangono pochi amici. Aspetta per... No, mi spiace. Ti devo dire... Hai già il biglietto del treno per abbandonarmi, figa. Com'è che va questo? Verona Porta Nuova. Cosa vai a fare a Verona, eh? Cosa vai a fare a Verona? Eh beh, cosa voglio andare a fare a Verona? Eh? Mi tradisci? Sono veneto. Mi tradisci? Io mi disiscrivo al tuo canale. Hai iscritto al mio canale? No, era per dirlo. Ma aspetta, ho un canale? Ah, vuoi fare pubblicità al tuo canale? Vuoi dire il tuo canale? Non so. Vai, dillo. Vi invito a iscrivervi al mio canale. Mi chiamo Albert B. Se volete io lì pubblico tutte le mie esibizioni. Essendo batterista, ovviamente. Pubblico le mie esibizioni. Quindi il canale è Albert B, non è Albert Drumbellani. No, quello lì è la mia... Albert B. Basta, senza punti. Albert B. Albert B. Basta. Ah, quel punto. Ok. Esatto. Sono 7 gradi, comunque. Se può interessare, aggiornamentali adesso. Iniziamo sta cazzo di buonanotte. Aspetta, a che ore sono? Non è ancora buonanotte. A specchiare sono? Dai. Buonanotte. Aspetta, a me lo specchiare un attimo. Buonanotte. E buonanotte. E buonanotte. Buonanotte.